Ecco, si chiude il cerchio dopo la rapina all'ufficio postale di Rosalie, questi delinquenti vengono restituati alla giustizia. Sì, in occasione della rapina si era proceduti all'arresto in flagranza di tre dei rapinatori. Successivamente un altro dei rapinatori venne arrestato in esecuzione delle misure cautelarie messe dal Tribunale di Reggio Calabria e oggi, come diceva, si chiude il cerchio sugli altri appartenenti alla banda che ha organizzato questa tentata rapina a Rosalie nel primo ottobre del 2019. La versione che venne appresa all'atto della rapina era di per sé inverosimile, anche sulle dichiarazioni rese dalle imputati nel corso del procedimento. Si faceva riferimento a un'ipotesi poco verosimile con un'improvvisazione di una rapina, appunto improvvisata di per lì in maniera fortunosa e la versione non era assolutamente verosimile. Successivamente siamo riusciti a ricostruire appunto questo gruppo criminale in cui gli odierini arrestati, il Trefiletti, l'Oliveri e il Leonello, costituivano la vera testa, i veri capi e organizzatori e promotori, coloro i quali erano riusciti innanzitutto a procurare mezzi, a indirruare gli uomini, quindi la manovalanza che poi è nata a eseguire la rapina, diventata tentata perché non riuscirono a portarla a termine, e a dargli soprattutto materiali per poterle eseguire. Oggi gli indirini arrestati sono stati tratti in arresto e associati ai rispettivi carceri. Ecco, come ci siete arrivati allora? Ci siamo arrivati con attività tecniche, attività investigative di ricostruzione dei contatti che sono avvenuti nelle fasi della rapina e delle indicazioni che sono arrivate ai materiali esecutori. Appunto la versione data dai rapinatori era inverosimile, non era credibile che avessero improvvisato il giorno stesso da Sinopoli, dove sono partiti, con un pullman di andare a fare una rapina a Reggio Calabria senza nessun mezzo. C'era chiaramente una mente dietro. E questa mente è stata ricostruita perché negli ambienti criminali delinquenziali frequentati dai materiali autori della rapina figuravano questi soggetti. Grazie poi ad un'attività di investigazione si è arrivati ai materiali, ai vertici dell'organizzazione.